I componenti del comitato Gelensis Populus incontrano il nuovo sindaco del comune di Caltagirone, Gino Ioppolo. Quali sono state le motivazioni dell'incontro e che cosa è emerso? Il comitato ha sempre guardato con grande attenzione alle amministrative di Caltagirone perché non dobbiamo dimenticare che Caltagirone è una comunità che congela Niscemi e Piazza Ermerina si gioca un ruolo fondamentale ed importante nell'ambito della città metropolitana di Catania. Per cui abbiamo ritenuto doveroso incontrare il sindaco di Caltagirone proprio per capire i suoi intendimenti in ordine al futuro prossimo. Bisogna dire che Ioppolo non nasconde la propria intenzione e quella della città di staccarsi dalla città metropolitana di Catania ma se Gela invece ha intenzione di entrare all'interno dell'area metropolitana di Catania e incontrare un sindaco che vuole invece andare via, per quale motivo? Noi abbiamo tenuto a precisare che era necessario e fondamentale che il progetto della migrazione alla città metropolitana di Catania comunque si completasse. Per cui l'incontro con il sindaco di Caltagirone è stato l'incontro oltre che con il sindaco di Caltagirone anche con l'onorevole Ioppolo a cui abbiamo chiesto di attivarsi presso l'assemblea regionale a che l'iter comunque trovasse un suo completamento. Quello che dal completamento dell'iter in poi si svilupperà è un ragionamento da lì a seguire. Quindi se non dovesse andare a buon fine il percorso che conduce Gela all'interno dell'area metropolitana di Catania potrebbe esserci un piano B con un abbinamento Gela-Caltagirone per un libero consorzio. Allora sì, ci sarebbero i numeri? Ci sarebbero i numeri laddove in rispetto a quello che stabilisce l'articolo 45 della legge 15 del 2015 nel frattempo si lavori a che le comunità del circondario siano mosse dal medesimo intendimento.